E' un concerto che è stato fatto in onore di padre Armando Perucci, in quanto in sostanza Questo è il sessantesimo anno che lui dice messa e fa parte dei frati Francescani Minori che a Gerusalemme hanno costituito la scuola Magnificat Che è una scuola musicale che aiuta tutti i bambini in ogni etnia a imparare a suonare e quant'altro E quindi dà un futuro a questi ragazzi Quindi questa sera abbiamo festeggiato padre Armando E abbiamo aperto, diciamo così, il nostro San Francesco Festival Fabriano E' un festival che vogliamo far rivivere ai fabrianesi e a tutti i marchigiani Gli 810 anni dalla venuta di San Francesco E San Francesco venne qua perché in sostanza aveva qui i suoi amici d'armi E con i quali era stato in prigionia Quindi venne a trovarli E volle che venisse costruita la chiesa di San Francesco Dove ora è la biblioteca e dove noi andremo a fare il nostro evento Che data? Partiremo dal 3 ottobre fino al 6 ottobre Sono due eventi correlati tra un'apertura di una mostra con documenti veramente molto importanti Tra cui la bolla papale di Onorio III datata a 1222 Dove appunto il Papa dava la possibilità a San Francesco di poter dire messa Grazie Grazie Grazie